Ciao a tutti amici artisti per prendi questo nuovo video che sarà un backstage in questo video diventerò Joker però prima di partire per me diventerò fare la barba vabbè per i cavigli non ce lo so fare mi arrangerò comunque il video e quindi non perdiamoci i chiacchi e partiamo con il video Ciao a tutti 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti E così si smettisce il mito dei perati che non si lavano i capelli Grazie a tutti 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 Un saluto dal vostro Joker Spero che questo backstage ci sia piaciuto Lasciate like, commentate e condividete Al prossimo video Grazie a tutti